Benvenuti al Formalavoro, tutti gli appuntamenti, tutti gli annunci che arrivano dai centri per l'impiego della provincia di Pavia, nel capoluogo, a Vigevano e a Voghera. Li vediamo insieme. Partiamo dal centro per l'impiego di Pavia, in piazza Italia 5, si cercano manutentori di sistemi d'automazione, luogo di lavoro Landriano, offerta valida fino al 30 aprile. Progettista, disegnatore meccanico AutoCAD, luogo di lavoro Certosa di Pavia, offerta valida fino al 30 aprile. Saldatore MIG, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Software Developer, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Tecnico di produzione, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Tecnico Commerciale Preventivista Antincendio, luogo di lavoro Sant'Alessio con Vialone, offerta valida fino al 30 aprile. Manager Responsabile Rete Vendita, luogo di lavoro Sant'Alessio con Vialone, offerta valida fino al 30 aprile. Idraulico, luogo di lavoro Cavamanara, offerta valida fino al 30 aprile. H6 Consultant, consulente Sant'Alessio con Vialone, è il luogo di lavoro, l'offerta valida sempre fino al 30 aprile. Consulente Junior, luogo di lavoro Sant'Alessio con Vialone, offerta valida fino al 30 aprile. Manutentore Polivalente, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Responsabile Sistema Qualità, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Responsabile di Cantiere, luogo di lavoro Sant'Alessio con Vialone, offerta valida fino al 30 aprile. Fabbro Saldatore, luogo di lavoro Filighera, offerta valida fino al 30 aprile. Giardiniere, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 30 aprile. Meccanico Riparatore d'Auto, luogo di lavoro Marzano, offerta valida fino al 31 di dicembre. Stegista Tecnico della Prevenzione, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 30 aprile. Addetto ad Attività di Back Office, luogo di lavoro Broni, offerta valida fino al 30 aprile. Manovale L'Assemblaggio Meccanico, luogo di lavoro San Martino Sicomario, offerta valida fino al 30 aprile. Elettricista Installatore di Impianti, luogo di lavoro Torre Vecchia Pia, offerta valida fino al 30 aprile. Progettista Meccanico Junior, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Progettista Meccanico Senior, luogo di lavoro Torre d'Isola, offerta valida fino al 30 aprile. Guardia Giurata, luogo di lavoro Siziano, offerta valida fino al 30 aprile. Impiegato, impiegata addetta alla gestione degli acquisti, luogo di lavoro Pavia, offerta valida fino al 15 maggio. Addetto ai servizi di igiene e pulizia, passiamo ai centri per l'impiego di Vigevano e via Boldrini 1, in questo caso luogo di lavoro è Mortara, offerta valida fino al 30 aprile. Geometra di cantiere, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile. Elettricista Manutentore di Impianti, luogo di lavoro Tromello, offerta valida fino al 30 aprile. Contabile, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile. Geometra, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile. Manutentore idraulico, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile Addetto carrello elevatore, luogo di lavoro Mortara, offerta valida fino al 30 aprile Geometra, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile Manutentore idraulico, luogo di lavoro Vigevano, offerta valida fino al 30 aprile Tirocinio, montatore di macchine industriali, luogo di lavoro Mortara, offerta valida fino al 15 maggio Passiamo al centro per l'impiego di Voghera, in via del Popolo 42, iniziamo con un elettricista che si cerca a Godiasco, offerta valida fino al 30 aprile Macellaio qualificato, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Venditore esperto di serramenti, luogo di lavoro Stradella, offerta valida fino al 30 aprile Infermiere professionale, luogo di lavoro Rivanazzano Terme, offerta valida fino al 30 aprile Operatore su centri di lavoro CNC, luogo di lavoro Cigognolo, offerta valida fino al 30 aprile Parrucchiera, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Ingegnere edile e neolaureato, luogo di lavoro Ponte Nizza, offerta valida fino al 30 aprile Geometra, luogo di lavoro Ponte Nizza, offerta valida fino al 30 aprile Capo officina, macchine CNC, luogo di lavoro Stradella, offerta valida fino al 30 aprile Collaboratore commerciale, nel settore emittenti radiofoniche locali, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Saldatore specializzato, luogo di lavoro Guazzora, Alessandria, offerta valida fino al 30 maggio Impiegato, impiegato amministrativo, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Escavatorista con patentino, luogo di lavoro Verretto, offerta valida fino al 30 aprile Tirocigno a Caldaista, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Carpentiere, tubista, saldatore, luogo di lavoro Castellar Guido Bono, Alessandria, offerta valida fino al 30 aprile Tecnico meccatronico, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 31 maggio Operaio edile qualificato apprendista, luogo di lavoro Broni, offerta valida fino al 31 luglio Tirocigno tecnico meccanico, luogo di lavoro Code Villa, offerta valida fino al 30 aprile Muratore qualificato, luogo di lavoro Lunga Villa, offerta valida fino al 30 aprile Impiegato, impiegata, addetto assistenza software, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Autista con patentino C e CQC, luogo di lavoro Casteggio, offerta valida fino al 30 aprile Addetto assistenza domiciliare anziani, inoltre Po e nel Pavese, offerta valida fino al 30 aprile Fabbro, posatore di serramenti, luogo di lavoro Stradella, offerta valida fino al 30 aprile Geometra di cantiere, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Elettromeccanico qualificato, apprendista elettromeccanico, luogo di lavoro Code Villa, offerta valida fino al 30 aprile Operaio cantiere, impianti elettrici, luogo di lavoro Godiasco, offerta valida fino al 30 aprile Tiroccinio tecnico manutentore, impianti termici, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Programmatore informatico, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Cuoco, luogo di lavoro Ponte Nizza, offerta valida fino al 30 aprile Balista, luogo di lavoro Ozzano dell'Emilia Bologna, offerta valida fino al 30 aprile Tiroccinio operatore macchine utensili CNC, luogo di lavoro Arena Po, offerta valida fino al 30 aprile Addetti alla masonezione del Verde, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Trattorista specializzato, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Camionista di bilico con rimorchio Vasca, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Geometra, luogo di lavoro Tortona, offerta valida fino al 30 aprile Tiroccinio operatori macchine utensili CNC, luogo di lavoro Arena Po, offerta valida fino al 30 aprile Tecnico manutentore elettromeccanico, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Operaio edile con patentino smaltimento amianto, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Geometra, luogo di lavoro Campo Spinoso, offerta valida fino al 30 aprile Autista patente CE, luogo di lavoro Campo Spinoso, offerta valida fino al 30 aprile Animatore di campi estivi per ragazzi, offerta valida fino al 30 aprile, luogo di lavoro Bosnasco Operaio metalmeccanico, luogo di lavoro Albaredo Arnaboldi, offerta valida fino al 30 aprile Panettiera autista, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Apprendista, customer care con funzione amministrativa, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Tiruccino, customer care con funzioni amministrative, luogo di lavoro Bronio, offerta valida fino al 30 aprile Tiruccino idraulico muratore, luogo di lavoro Silvano Pietro, offerta valida fino al 30 aprile Impiegato o impiegata amministrativa, detto all'amministrazione del personale, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 30 aprile Tiruccino geometra, luogo di lavoro Casal Noceto, offerta valida fino al 15 maggio Ingegnere elettromeccanico, luogo di lavoro Voghera, offerta valida fino al 10 maggio Badante convivente, luogo di lavoro Colli Verdi, offerta valida fino al 10 maggio Questi tutti gli inserzionisti di questa settimana al forma lavoro, a cura dei centri per l'impiego della provincia di Pavia Continuate a consultare la nostra trasmissione durante la settimana Può rivolgervi direttamente ai centri per l'impiego Noi ci ritroviamo tra sette giorni Noi ci ritroviamo tra sette giorni